Sì, una commedia dove si ride, si cerca di far divertire la gente perché soprattutto ci divertiamo noi a metterle in scena. Per sempre, per gesti di solidarietà come la nostra missione originaria, noi siamo nati solo per questo, per fare divertire la gente e raccogliere anche un po' di fondi per delle varie associazioni aretine. Allora, l'argomento della commedia potrebbe essere abbastanza un po' piccante, diciamo così. La commedia dell'equivoci si svolgono in un appartamento dove ci sono degli incontri un po' equivoci, un po' particolari. Si riderà molto. Molto. E questo facciamo pro associazione Autismo Arezzo e qui abbiamo una rappresentante dell'associazione che è anche la nostra interprete e attrice della commedia. Sì, infatti, sono sia un'attrice della commedia, attrice amatoriale, perché è da quest'anno che è iniziato a partecipare alla compagnia Avanti Tutta, sia come rappresentante dell'associazione Autismo Arezzo, in quanto mamma di un bambino autistico. E per questo ringrazio Lolli e tutti gli amici attori, che tra l'altro sono bravissimi, quindi venite a vederli, per quest'idea di devolvere tutto il ricavato all'associazione Autismo Arezzo, al fine di promuovere delle attività di laboratorio, attività di aggregazione, attività di stimolo per cercare di includere i nostri ragazzi nelle attività sociali per capire quelle che sono le loro attitudini, i loro interessi. E' tutto un lavoro su cui ruota l'associazione Autismo Arezzo.